Campioni nella vita ma anche sul campo, amici a quattro zampe, capaci di donare affetto incondizionato, capaci di restituire sorrisi, serenità e soddisfazione. I nostri compagni di vita da amare e non da abbandonare ma coccolare e tenere stretti al proprio cuore perché loro non hanno voce e non possono difendersi. Abbandonare o maltrattarli non solo è un reato punito dalla legge ma è una vergognosa infamia dell'essere vile. Gli amici fedeli capaci di far alzare in alto i calici della vittoria come lo splendido Tom di Mirabella e Clano che è campione d'Italia. Brinda la squadra campana dove in Abruzzo c'è il cuore irpino con Giampiero Sepe. Una giornata emozionante raccontata ai microfoni di Canale 58 proprio da Sepe che non manca di lanciare significativi messaggi all'insegna del rispetto dei nostri cari amici. Era un campionato veramente difficile. Al Via c'erano oltre 36 squadre provenienti da tutta Italia è una schiera veramente enorme di campioni. Una gara italiana ma come mai hanno vinto proprio questi campioni irpini? I campioni irpini si sono le areate campioni d'Italia in quanto sono grandi cani da lavoro e hanno dimostrato sui terreni di Castiglione e Sermarino un paesaggio spettacolare con paesaggi di altri tempi di avere delle grandi qualità. Forse anche un po' di fortuna rispetto agli altri. I cani erano tutti monitorati, c'era l'ambulanza, c'era un servizio veterinario del posto. I cani durante la gara venivano completamente abbeverati e tenuti sotto controllo. Io voglio lanciare a questo proposito un messaggio che è di attualità. Portate i cani in vacanza, non lasciate i cani per strada, non abbandonate i vostri amici a quattro zampe. I nostri compagni di vita, siano essi un cane, un gatto o qualsiasi altro animale da compagnia, ormai nella nostra società non sono degli animali ma sono dei compagni, degli amici, dei figli. che entrano in società e nella famiglia.